Cari ragazzi, benvenuti alla lezione 31 del corso di geometria o algebra lineare. Oggi parliamo brevemente di spazi ermitiani. Ieri abbiamo trattato gli spazi euclidei, ovvero abbiamo visto che cos'è la generalizzazione di un prodotto scalare e abbiamo visto che una volta che diamo le proprietà che ci erano servite per dimostrare le cose interessanti sul prodotto scalare, canonico o standard in RN, allora possiamo dare una nozione molto simile e molto più generale. Ovviamente la stessa cosa si può fare in maniera del tutto analoga anche per gli spazi vettoriali complessi. Quello che si fa è definire una cosa che si chiama prodotto ermitiano e si ottiene uno spazio ermitiano per cui di nuovo possiamo definire il concetto di norma, di lunghezza del vettore, possiamo definire il concetto di ortogonalità. Di nuovo un prodotto ermitiano sarà rappresentato da una matrice che questa volta non sarà una matrice simmetrica ma, sorpresa, l'equivalente delle matrici simmetriche in ambito complesso, ovvero una matrice ermitiana. Purtroppo qua il nome inganna un po', perché prodotto ermitiano e matrice ermitiana hanno esattamente lo stesso nome mentre prodotto scalare e matrice simmetrica hanno nomi diversi. Esattamente come nel caso di prodotto scalare, matrice simmetrica non sono esattamente la stessa cosa bisogna richiedere un qualcosa di più alle matrici simmetriche perché rappresentino un prodotto scalare anche qua non tutte le matrici ermitiane rappresenteranno un prodotto ermitiano. Non scendiamo nei dettagli e non facciamo un equivalente del teorema di Silvestre perché la lezione di oggi è molto, molto più breve, vuole solo far vedere che le cose che abbiamo fatto ieri si possono generalizzare anche in ambito complesso. Ma in realtà per la parte finale del corso saremo più interessati ad analizzare più nei dettagli gli spazi euclidei perché ci permetteranno di dimostrare alcuni risultati davvero interessanti. Anche se in realtà con un po' di sforzo in più si potrebbero dimostrare risultati simili anche per gli spazi vettoriali complessi. Ma vanno alle ciance andiamo con la definizione. Sia v uno spazio vettoriale su C definizione un prodotto ermitiano è una applicazione H da V cartesiano V C che soddisfa per ogni U V V W V e lambda scalare in C le seguenti proprietà proprietà che sono ovviamente le generalizzazioni delle proprietà del prodotto ermitiano che standard canonico che abbiamo visto quando abbiamo trattato C N proprietà A la funzione è additiva rispetto alla prima coordinata quindi H di U più W U è uguale ad H di V U più H di W U proprietà B la funzione è additiva rispetto alla seconda coordinata quindi H di U U V W è uguale ad H di U V più H di U W W proprietà C la funzione quando inverto l'ordine delle coordinate mi dà il coniugato mi dà il coniugato quindi H di U V è uguale ad H di V U coniugato in particolare H di V V è uguale ad H di scambio per ruolo dei due ottengo H V coniugato e quindi è un numero reale questo ovviamente è una conseguenza della proprietà non è una cosa che richiediamo quarta proprietà H di lambda U V è uguale a lambda H di U V che ci dice che è omogeneo rispetto alla prima componente e quindi A e D ci dicono che è lineare rispetto alla prima componente lineare rispetto alla prima componente invece ovviamente D D e C implicano il fatto che H di U lambda V è uguale a lambda coniugato H di U V questa potremmo tranquillamente non richiederla perché è implicata da da C e D la stiamo aggiungendo solo perché così per completezza ce la ricordiamo ma in realtà non deve essere richiesta e ultima proprietà H di V che sappiamo già essere reale in realtà è maggiore o uguale a 0 qualunque sia V e l'uguaglianza vale se e solo se V è il vettore nullo queste erano tutte proprietà che erano verificate dai dal prodotto ermitiano standard o canonico di Cn ed erano le proprietà che ci permettevano di definire il la norma dei vettori l'angolo tra i vettori eccetera eccetera quindi noi isoliamo semplicemente queste proprietà e possiamo quindi definire esattamente le stesse cose ma abbiamo molta libertà di più stiamo facendo esattamente quello che abbiamo fatto ieri per i prodotti scalari per gli spazi vettoriali reali sugli spazi vettoriali complessi quello di cui abbiamo bisogno per generalizzare il prodotto scalare degli spazi vettoriali reali è un prodotto ermitiano uno spazio vettoriale V sui complessi dotato di un prodotto ermitiano H viene detto spazio ermitiano che è l'equivalente sui complessi dello spazio euclideo osservazione osservazione anche in questo caso possiamo utilizzare le matrici per rappresentare i prodotti ermitiani non saranno matrici simmetriche ma saranno matrici ermitiane rappresentare i prodotti ermitiani quindi siano v e w vettori dello spazio vettoriale v sia b v1 vn vn una base di v allora possiamo scriverci quali sono le coordinate di v e di v doppio rispetto a questa base quindi v sarà il vettore di coordinate x1 xn v doppio le coordinate rispetto a questa base sarà il vettore y1 yn vettore ovviamente di cn allora utilizzando le proprietà del prodotto ermitiano abbiamo che h di v doppio è h di che cosa vuol dire che le coordinate di v sono x1 xn vuol dire che v in realtà è la somma per j che va da 1 ad n di xj vj e che cosa vuol dire che le coordinate di v doppio rispetto alla base b sono y1 yn vuol dire che v doppio è la somma y1 v1 più y2 v2 e così via mettiamo un indice di somma diverso k che va da 1 ad n yk vk e quindi abbiamo semplicemente riscritto la nostra cosa ma ora utilizziamo il fatto che è lineare rispetto alla prima variabile e che è additivo rispetto alla seconda variabile e le costanti escono coniugate quindi con esattamente i passaggi fatti nel caso del prodotto scalare utilizzando le proprietà del fatto che h è un prodotto ermitiano otteniamo che questa è la somma per j e k che vanno da 1 ad n di xj yk coniugato per h di vj vk ma questo ce lo possiamo scrivere tranquillamente come gli xj sono le coordinate del vettore v rispetto alla base b quindi vb trasposto per la matrice che rispetto alla base b rappresenta il prodotto ermitiano h per yj yk coniugato cioè le coordinate del vettore w rispetto alla base b coniugato dove chi è mb di h dove mb h è la matrice che al posto jk ha h di vj vk variare di j e k tra 1 ed n osservazione sappiamo che h è un prodotto ermitiano quindi h di vj vk è uguale ad h di vk vj coniugato per una delle proprietà del prodotto ermitiano il che ci dice che cosa? ci dice che la matrice b di h che rappresenta h nella base b trasposta è uguale alla matrice b h coniugata o se vogliamo coniugando in entrambe le parti la matrice che rappresenta b che rappresenta h rispetto alla base b aggiunta cioè trasposta coniugata è uguale a se stessa ovvero la matrice m h rispetto alla base b è auto aggiunta ovvero una matrice ermitiana quindi questa è una matrice ermitiana ovviamente la domanda è e se abbiamo una matrice ermitiana questa matrice ermitiana ci rappresenta un prodotto ermitiano beh la risposta è non sempre vediamo perché quindi quello che abbiamo visto è che se h da v per v in c è un prodotto ermitiano allora esiste una matrice ermitiana m di h matrice n per n a coefficienti in c ermitiana tale che h di v w è uguale alle coordinate di v rispetto alla base b trasposto per la matrice m b h per le coordinate di v w rispetto alla base b coniugata viceversa 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 ci immaginiamo già che non sia vero ad esempio abbiamo visto che nel caso reale se abbiamo un prodotto scalare questo è rappresentato da una matrice simmetrica ma non tutte le matrici simmetriche rappresentano prodotti scalari il teorema di silvester ci suggerisce che non sia vero ma ci basta trovare un contresempio per far vedere che non è vero il contresempio è molto semplice prendiamo la matrice nulla a coefficienti in c matrice nulla ovviamente è ermitiana ma l'applicazione che manda v w in coordinate di v rispetto alla base b trasposta per la matrice nulla per le coordinate di w rispetto alla base b sta mandando semplicemente tutto nello 0 quindi in particolare v viene mandato in 0 e qualunque sia v ma questo non va bene perché noi abbiamo richiesto che il prodotto ermitiano di un vettore con se stesso sia maggiore uguale a 0 e sia strettamente maggiore di 0 tranne nel caso in cui il vettore è il vettore nullo quindi la risposta è no ci sono matrici che non ermitiane che non rappresentano un prodotto ermitiano ora qua il problema è che il nome è un pochettino ambiguo mentre nel caso reale abbiamo il nome prodotto scalare per la matrice usiamo matrice simmedrica qua usiamo prodotto ermitiano e matrice ermitiana un prodotto ermitiano è rappresentato da una matrice ermitiana ma attenzione una matrice ermitiana non rappresenta necessariamente un prodotto ermitiano purtroppo i termini che si usano sono questi dobbiamo accontentarci ovviamente c'è un analogo del teorema di Sylvester ma non lo vediamo bene quello che vogliamo vedere è invece come si comporta questa matrice rispetto al cambio di base come si comporta m d h se cambio base quindi supponiamo di avere un'altra base sia c w1 wn un'altra base di v e quello che otteniamo è che allora h di v w w può essere visto o come w coordinate rispetto alla base b trasposto per la matrice mbh per w coordinate rispetto a b coniugate oppure ovviamente utilizzando la base c coordinate di v rispetto alla base c trasposto per la matrice che rappresenta h rispetto alla base c per le coordinate di w rispetto alla base c coniugate ora utilizziamo il nostro cambio di coordinate quindi scriviamoci che attenzione se abbiamo un vettore z le coordinate di z rispetto alla base b sono semplicemente la matrice di cambio di base n di c per le coordinate dello stesso vettore z rispetto alla base c e inseriamo questa informazione in questa uguaglianza quindi questa uguaglianza diventa v b trasposto sarebbe la matrice di cambio di base mbc per le coordinate di v rispetto alla base c il tutto trasposto poi abbiamo per la matrice che rappresenta h rispetto alla base b per le coordinate di w rispetto alla base b coniugate ovvero le coordinate di w rispetto alla base b sono matrice di cambiamento di base mbc per le coordinate di w rispetto alla base c il tutto coniugato questo cosa diventa quindi diventa semplicemente quando abbiamo il trasposto di un prodotto di matrice dobbiamo fare il prodotto in senso inverso delle trasposte quindi v coordinate rispetto a c coniugate m d c trasposto per m di h per m d c coniugato per w c coniugato dall'uguaglianza quindi di questa e questa scrittura per h di w con il ragionamento esattamente analogo a quello che abbiamo fatto nel caso delle matrici simmetriche del prodotto scalare otteniamo che la matrice m che rappresenta h rispetto alla base c è semplicemente uguale al prodotto m bc trasposto per m che rappresenta il prodotto termichiano h rispetto alla base b per m bc coniugato e quindi ecco che abbiamo trovato un modo per passare dall'una all'altra ovviamente esattamente come abbiamo fatto nel caso reale potremmo definire una similitudine equivalente della similitudine della congruenza tra matrici richiedendo che ci sia una matrice invertibile a e b sono in una relazione d'equivalenza se esiste una matrice invertibile tale per cui a è uguale a p trasposto b p coniugato questa ovviamente ci darebbe una relazione d'equivalenza e con le stesse proprietà che abbiamo visto nel nel caso del della delle relazioni di congruenza per le matrici simmetriche avremmo una relazione sulle matrici ermitiane che ci permette di dire che due matrici rappresentano lo stesso prodotto ermitiano se e soltanto se sono in questa relazione di equivalenza la dimostrazione è del tutto analoga a quella del caso reale ma non la vediamo perché non siamo particolarmente interessati ad approfondire questo caso tutto quello che stiamo facendo adesso sui prodotti ermitiani è semplicemente per completezza per vedere come le cose che abbiamo fatto ieri sui prodotti scalari nel caso di spazi vettoriali reali si estendono in maniera molto molto simile al caso di spazi vettoriali complessi vediamo degli esempi di spazi ermitiani c n con il prodotto ermitiano standard prodotto ermitiano standard o canonico è uno spazio ermitiano è esattamente il modello degli spazi ermitiani è quello da cui siamo partiti per isolare le proprietà che ci sembravano degne di essere utilizzate per il dare la nostra definizione più in generale altro esempio v lo spazio vettoriale delle matrici m per n a coefficienti in c l'applicazione che ad una coppia di matrici associa la traccia di a per l'aggiunta di b cioè per b trasposta coniugata è un prodotto ermitiano la traccia è lineare il prodotto è lineare sul primo termine lineare sul secondo termine quando facciamo la trasposta è lineare ma il coniugato fa sì che l'addittività venga mantenuta ma la moltiplicazione per certi coefficienti esca coniugata quindi le proprietà del prodotto ermitiano valgono dovremmo dimostrare anche che è definito positivo come si fa nel solito modo se si prendono a e a questa è la traccia di a per a coniugato che ha semplicemente su tutti gli elementi della diagonale ha semplicemente il modulo quadro delle righe o delle colonne della matrice provate a dimostrarlo esercizio dimostrare l'affermazione questa che questa applicazione è un prodotto ermitiano andatevi a riprendere la definizione che abbiamo dato con tutte le proprietà che devono essere soddisfatte e vedete una per una che le proprietà sono soddisfatte dovrebbe essere abbastanza semplice se poi avete dei problemi con questo esercizio me lo dite e farò un video in futuro in cui risolvo l'esercizio ovviamente date le proprietà che abbiamo possiamo definire la norma di un vettore v v come il numero reale norma di v uguale la radice quadrata di h di v v sappiamo che h di v di v è maggiore uguale a zero quindi possiamo prendere la radice quadrata esattamente quella che ci interessa è la distanza tra due vettori come sempre la distanza tra v e v doppio è semplicemente la norma della differenza di v meno v doppio ovvero la radice quadrata di h di v meno v doppio v meno v doppio vale di nuovo la disuguaglianza di Koscius-Schwarz e la dimostrazione è esattamente la stessa che abbiamo fatto nel caso di CN col prodotto ermitiano standard e quindi non la rifacciamo dimostrazione come per CN col prodotto ermitiano standard né più né meno semplicemente non chiamiamo i vettori vettori di CN ma vettori di V e però è tutto uguale ovvero sia V H 1 spazio ermitiano allora abbiamo che il modulo di H di V W è minore uguale della norma di V per la norma di W e si ha l'uguaglianza se e solo se V e W sono linearmente dipendenti di di nuovo sfruttando la disuguaglianza di Kosciusz Warsi e l'analogia con quanto abbiamo fatto soprattutto per RN ma anche per CN per gli spazi euclidei eccetera eccetera diciamo che V e W sono ortogonali se H di V W è uguale a 0 è una nozione che ha ben poco a che fare con la nozione di ortogonalità a cui siamo abituati in RN è semplicemente una generalizzazione della nozione però è una cosa che può essere molto interessante per dimostrare dei risultati parecchio generali insieme di generatori con indipendenza lineare che fanno a formare le basi di uno spazio lineare di di